Ciao ragazzi e bentornati sui Trinieri di Pesca, il canale che tratta le pesche sportive dal punto di vista nanogonistico e puramente ricreativo e sono il vostro dottore e sono qua per accompagnarvi in questo viaggio. Quest'oggi la storia racconta. La storia racconta che questo inverno ero a cortissimo di materiale come sempre ragazzi ormai da quando sono rimasto da solo a girare video per me è veramente una difficoltà riuscire a girare materiale e comunque a fare video di pesca addirittura al mese di febbraio ragazzi sono andato a pesca una volta sola anche perché tanti impegni che vedete che stanno crescendo entrando nel mondo di dp dal punto di vista fieristico e dal punto di vista di gestione degli influencer con la wannabe media mi hanno veramente dato un carico talmente importante che a volte sono stanco e non ho voglia di andare a pesca lo so è brutta da dire così però un giorno ho deciso di andare in un fossettino qua vicino a casa mia perché ho detto io ho bisogno devo pescare perché altrimenti per me so sto male se no sto veramente male ed è quindi che ho fatto ho fatto questa pescata che ho chiamato feeder cotto e piselli lo scoprirete durante il video che cosa significa feeder cotto e piselli non ho fatto tante catture però per me è stata una giornata veramente rilassante durante la quale ho provato anche l'ombrellone di mamma decathlon di mamma capperland scusate che non vedevo l'ora di provare quindi vi lascio a questo breve video dedicato a questa giornatina di pesca e ci vediamo poi per la chiusura Musica 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 La zona è piuttosto trafficata a quest'ora della mattina fortunatamente il cielo non è esageratamente nuvoloso sembra che si stia rasserenando però nell'ombrellone lo mettiamo lo stesso allora questo è il fossetto la si vede un po di movimento nell'acqua se non so se già notate forse c'è un branco di carpe studiamo c'era un attimino montiamo tutto l'ambaradan e andiamo alla costruzione di quello che è il nostro castello partiamo dall'ombrellone Musica Musica pensavate che sarebbe stato un smr fishing ma non lo sarà adesso andiamo a montare quella che è la tenda intorno al nostro ombrellone ragazzi il splendamento è montato guardate che bello e adesso andiamo a costruirci al suo interno tutto quello che sarà il campo per stare il massimo della comodità tutto quest'oggi e qua sarà lo spot che affronteremo pescheremo in quella zona la dove abbiamo pasturato il greci e baggato un po di mais e sicuramente qui davanti abbiamo visto molto movimento un movimento che si andrà a recuperare durante la giornata perché adesso facciamo confusione essendo un fosso piccolo infatti essere venuto qua a aver piantato i picchetti ha spostato le carpe dovremo aspettare qualche ora perché si ripresentino nel silenzio ma intanto noi ci creiamo una nostra zona bene signori le cani da pesca sono posizionate in materassino anche la postazione è quasi pronta adesso non resta che andare a preparare tutte le telecamere per dargli i giusti punti di vista durante c'è il vento i giusti punti di vista durante la pescata speriamo che l'ombrellone rega perché il vento ce l'abbiamo proprio teso in faccia non me l'aspettavo sta cosa speriamo bene io mi sono approcciato con tutte quelle che sono le varie telecamere una un aguadino una per fare le foto che è la sony alfa poverina che soffre tantissimo perché si è rotto lo schermetto e poi abbiamo la nostra sony handicap che ci sta salvando la vita l'approccio di oggi ci vedrà con mais non abbiamo pesca viva oggi ma siamo col mais dolce della delizia del sole dell'eurospin e poi abbiamo la pastura che abbiamo utilizzato ai due laghi di sarjana che io ho buttato in una bustina l'ho cagata lì per 15 20 giorni vediamo se la pastura di capperland che è stata così tanto ferma e bagnata sarà ancora catturante questa è una bella sfida per la pastura questa stiamo utilizzando stiamo utilizzando la method feeder booster premium carpe carpe al crab quella rossa lo so che mamma capper non avrebbe problemi a mandarmene delle bustate ma io sono una persona che tende ad economizzare non mi piace buttare via le cose quindi oggi riproviamo questa se vedremo che non ci darà soddisfazione perché magari ragazzi è andata ne rifaremo un pochino e ci metteremo in pesca detto questo gli approcci appunti saranno da una parte col mais che vedremo come è innescato oggi perché non sarà su rig e poi saranno con il bigattino morto sdraiato che anche questo è stato un frigorifero un mese quindi oggi con le esche non siamo messi benissimo ma dai vediamo le montature pronte e andiamo in pesca allora nel primo caso abbiniamo ad una carp sensitive 1040 montata col vettino da 30 grammi da 2,70 m il nostro mulinellino sempre carp il feeder 3000 della capperland che io adoro tantissimo guardate com'è bellino cioè ragazzi vedete com'è carino con un 22 di madre perché l'acqua sono piuttosto torbida abbiamo comunque un 16 di finale ed è una montatura running rig classica diciamo in versione ledgering quindi abbiamo uno sgancio rapido con moschetto scusate una girella con moschetto ammortizzato uno sgancio rapido a bins un finale intorno ai 40-50 cm adesso il vento mi porta via l'ombrellone e poi un amo più o meno che vada taglia 12-14 dove andremo a mettere un bigattino calzato e due appesi quindi la classica il classico innesco a corona pescheremo allagini perché peschiamo qui davanti quindi pasturiamo a mano e organizziamo la pasturazione in questo modo comunque la girella con moschettone ci permette eventualmente di mettere un pasturatore ma siccome abbiamo parecchi bigattini sdraiati preferisco lanciarli a mano o a fionda adesso andiamo a vedere la seconda montatura la seconda montatura è sempre un classico della pesca a fidere mi dispiace per le macchine che passano a continuazione abbiamo una carp sensitive in questo caso una 20-60 da 3 metri con montato un pasturatore da 25 grammi una cage sempre classica montatura running ma questa volta ha un finale molto più corto sui 20 massimo 25 cm un amo un pochino più grande qui siamo sull'ordine del 10 perché il mais quest'oggi non lo andremo a mettere su riga come facciamo sempre quindi sull'elastichino ma lo andremo a posizionare direttamente sull'amo dato che non dobbiamo fare lanci lunghi possiamo appoggiare la nostra lenza e questo ci permette quindi di poter fare degli inneschi meno forti, meno duri ma degli inneschi che possano essere più facilmente ingoiabili delle nostre carpettone magari più sospettose soprattutto sul mais dell'inverno e altra cosa qualora volessimo passare al bigattino abbiamo comunque un amo che ce lo consente perché privarcene? ce lo consente possiamo fare tanto dietro saltano i pesci quindi adesso facciamo gli inneschi mettiamo la pastura e andiamo in pesca l'innesco del mais ragazzi a questo punto è veramente easy easy lo andiamo a prendere dalla testa andiamo a calzare certo sarebbe meglio un amo con una curva più ampia lo andiamo a mettere così e poi un altro semplicemente appeso eccolo qua ecco il fatto che il nostro innesco di mais easy easy è già pronto carichiamo il pasturatore con un pochino della pastura che come si diceva speriamo sia sempre valida anche perché poi il resto della pastura lo andremo a tirare a mano quindi questo ci serve solamente un pochino come il dichiamino eccolo qua ed ecco che la nostra mini montatura è pronta eccoci qua e la prima intanto c'è apriamo un pochino la frizione i nostri diva macinati di mulinelli stanno facendo quello che possono e la prima è messa giù adesso andiamo alla seconda per la seconda che è diciamo il leggering classico dobbiamo andare a recuperare un po' di bigattini ma come vi ho detto di vivi mi sa che ce n'è veramente pochi andiamo a recuperarne qualcuno quelli che si muovono un po' di più perché ragazzi purtroppo ieri non sono riuscito ad andare a prendere i bigattini e penso che capiti un po' a tutti no? a volte di non riuscire ad andare a recuperare il bigattino ma d'inverno soprattutto per le piccole catture il bigattino fa la differenza diciamo per smuovere un pochino la giornata non sono svegliissimi comunque qualcosa da recuperare ce l'abbiamo guardate nella massa dei bigattini ne mettiamo guarda tre appesi e uno calzato quindi ora prima ancora di lanciare io ne approfitto questa manciatina qua la lancio davanti perché pescheremo appunto ora un pochino più avanti di così eh però intanto ne avviciniamo anche io lancio da sotto molto 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 easy là e giocheremo sul passaggio delle carpe in quella zona infatti ho visto c'era sbollatine e robina varia vediamo un attimino se poi oh ne uscirà qualcosa dai adesso ci si mette comodi nella nostra postation ah lascia tutta la pappa dopo si fa anche la pappa e niente ci accomodiamo aspettiamo che arrivi qualcosina adesso possiamo lasciare lo spot a riposo quindi non andiamo più a caricare a muoverci andare avanti e indietro ci mettiamo seduti perché le carpe devono avere modo di tornare a pascolare e di avvicinarsi andiamo a a a a a il che c'è il che c'è anche se sono le 11 20 io comincio a cucinare allora allora oh la nostra borsa che cosa c'è allora buoni 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 paccheri paccheri di simone grano duro italiano sono 12 minuti di cottura madonna perché praticamente sono un po' le esche e quello che ci avevo nel patto di natale quindi allora di 4 prendiamo che ci troviamo ci troviamo crecherini e dolcini questi ci interessano eventualmente dopo oppa poi il nostro scolapasta poi che ci riguarda qua vediamo un po' il formaggino buono da mettere sulla pasta perché oggi facciamo la pasta buona allora l'acqua per la cottura però sembra che qua il fornellino si fa poco che lo metterei guarda qua c'è la trovare in un posto ecco vedi che sia gritto perché sembra un casino colla grissimi oi la cacchia oi la cacchia mi sono portata la la cola fry white non c'è vedere ecco la cola blues la blues poi l'acqua da bere il misturo perché il misturo serve sempre la mia bella pentola con gli ingredienti mettiamo un attimo qua sulla sedia allora nulla catture? no e poi il kit quello dell'allegro mangiatore ci abbiamo la forchettina il cucchiaio l'accendino l'olietto il sale e il fantasia allora cominciamo la prova di cuoco che dite? ma intanto non posso cercare di vedere oggi faremo per la gioia di grandi e piccini faremo panna, piselli e prosciutto alla grande che però non potrà essere frittellata a modino in patella quindi dovrò far tutto nel pentolino la pasta quindi mettiamo a bollire l'acqua e poi buttiamo tutto insieme insomma se farà un buon pollo per la metà basta vediamo tutti gli ingredienti madonna che cosa ne sto facendo qui ci abbiamo anche la nece mosca allora qui bastiamo sicuri che qui non casca tutto vabbè mettiamo a bollire l'acqua aspetto che l'acqua vada in ebollizione qui si diventa vecchio direbbe la bombolina nuova non spinge abbastanza però possiamo cominciare questa è l'italiano quindi va buttiamo la pastina intanto il fornolino scalda a copertura del vento cominciamo adesso abbiamo tutte le cosine per il sugo dai allora non c'è una padella quindi sai cosa si fa allora si mette tutto qua dentro nella nostra schicetta e poi dopo lo giriamo tutto dentro la dentro il pentolo quindi questo è uno poi i piselli eh 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 quanti però ho fatto il sugo per un esercito eh 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 ok si sistema tutto e la panna la panna mi sa che conviene mettercela dopo e ora ci diamo una grattatina di noce moscata la paprika e noce moscata messe mettiamo un filettino di olio ce l'abbiamo l'olio? no non ce l'abbiamo non lo so dove lo mettiamo dai aspettiamo che la pasta sia pronta dai eh andiamo a scolare la pasta adesso uso il trucco che ho visto su tiktok da vedere da buon boomer tra le altre cose allora via il tappo questo lo mettiamo così qui non lo rubiamo andiamo andiamo via 3 4 ai 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 con le mani che stronzo che sono vieni qua c'è solo la pipì eh ma quant'acqua c'era minchia aspetta eh se faccio così vecchio stile ci sta panando tutto per ora pesce non ce ne sono ma a noi si mangia allora dai non abbiamo ancora finito eh allora prima di rimettere tutto a coce buttiamo buttate tutto dentro vai stavessi rovescia tutto si fa le ridate e e ok adesso ci va la panna ce la mettiamo tutta secondo me tutta è troppa invece è troppa sì però ormai che si fa se si fa facciamo la losca facciamo la lozza dai andata via ora si riaccende e si gira un po' andiamo e ti ri-ri-ri-ro e ti ri-ri-ro ma che bella ma che bella ma che bella quanto sugo c'è quanto sugo ragazzi ho esagerato col sugo madonna mia come si fa troppa troppa questo è il sugo per 3-4 persone vabbè dai bella carica saltiamola un po' ci rivediamo quando è nel piattino signori miei impiattiamo e vieni come sempre faccio danni io allora madonna che bella come il grotola bene lì metto un po' di sono un quintale di sugo e poi non ce lo metto io sono meno fatta un po' troppa comunque vabbè intanto mangiamo la prima porzione e questo lasciamolo qua su al caldo bene ragazzi il parmigianino mi sembra il minimo te sono stati bacini ma non esci se ne freghiamo io direi buon appetito ragazzi e aspettiamo qualche carpetta ragazzi il parpezzicchino sole dolcino godurioso e la pappa è fatta e aspettiamo le carpe eccoci ragazzi madonna prima carpa è arrivata madonna madonna mia ragazzi guardate le carpe sono cattive madonna quanta cattiveria aspetta che accendo anche l'altra oh madonna ma ma ragazzi 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 ma che cattiveria madonna mia che cattiveria ste carpette col bigattino ma oh ragazzi ma stiamo scherzando ma stiamo ma stiamo scherzando ma perché c'hanno poca acqua ma madonna mia che cattiveria sono piccolino questa è piccolina ragazzi ma che cattiveria queste carpette invernali mamma mia mamma mia con il telefono ma non lo tira via madonna addio va sotto il ponte addio va sotto il ponte e no eh eh qui sono colto di canna sono colto colto se non viene più eh la devo far andare ragazzi ecco ok si fa così guarda la tiri verso la questa parte e si va via bene qui c'è un po' più di profondità oh oh ragazzi che video che tira che video che tira che video che tira bimbi eh madonna che carpina invernale così da attacco vedi le soddisfazioni ragazzi che può da un fossetto tra l'altro cosa oh eh è piccola ma guarda che bei colori mamma mia bimbi com'è bellina vediamo se riusciamo magari anche a guadinarla perché cioè qui sembra che non non ci abbiamo una grande pace eh nel senso che non mi sembra che abbia voglia di fermarsi è sotto ma guarda è sotto ma guarda come perché ragazzi queste carpe qui è un bel po' che non vengono ripescate eh che era una zona molto bracconata questa eh io ieri sono tornato con meraviglia qua ho detto guarda ci dà un'occhiata per vedere com'è che qui si facevano solamente i pezzi di sole eh però ho visto del movimento ho detto ma sai che c'è troviamo ed ecco che il di gattino ci dà il primo carpino uh 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 nervoso tra le altre cose via appoggiamoci un attimo qua insomma piccolina mia tante ora si recupera l'amo dopo guardate che bella guardate proprio che che bell'esemplare eh ti bagno le mani col oh 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 calma 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 ferma 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 che rimani agganciata ragazzi per cominciare la giornata ma guarda guarda che che bella che bella ragazzi guarda la mamma mia che menoviglia ragazzi dai vi faccio vi faccio una foto proviamo un po' dai guardate che bella esemplare meravigliosa 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 andiamo subito a dargli la libertà partita ragazzi come un treno eccola ciao bimbaccia la prima carpetta della giornata è arrivata è stato un bel esemplare è un bel esemplare tra le altre cose ci ha fatto veramente diventati che combattimento dai qui spingiamo rimettiamoci ci rimettiamo giù e ragazzi il bigattino d'inverno ora vediamo se l'ha già mai se magari ci da qualche soddisfazione l'arco della giornata se no passiamo al bigatto dai ebbene che ne pensate del feeder cotta e piselli madonna come ho mangiato bene allora è stata una giornata dove ho fatto solo una cattura dove comunque ho faticato tanto per farla e poi tutto il resto del giorno al freddo e al gelo oh mio signore però sono stato veramente bene mi ha rilassato tanto e mi ha ricaricato il cervello capitano anche a voi queste giornate dove magari non prendete tanto ma vi ricaricate tantissimo la mente e vi rilassate veramente tanto con la pesca sportiva beh ditemelo qua sotto nei commenti se vi va e magari se volete iscrivetevi al canale lasciate un like condividete fate tante belle cosine che per voi sono totalmente gratuite per noi sono fondamentali per me sono fondamentali per la crescita di questo progetto e di questo programma chiamato itinerari di pesca se volete potete anche lasciare una donazione un super grazie o addirittura abbonarvi al nostro canale per avere contenuti esclusivi detto questo io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato anche a questo video e a questa nostra storia un bacione tante care cose e come sempre il nostro motto Catcher Elise ciao bimbacci che roba abbiamo caro stuolo c'è un sede sei slamato dai che c'è release Sì